La consacrazione ora è arrivata anche da New York Times che in un articolo entusiasta di Seth Sherwood la definisce città per edonisti e santi. Lecce è nell'Olimpo delle mete turistiche e le folle di visitatori che nel pacchetto Sole Mare Ferragostano ci aggiungono stabilmente anche l'arte del capoluogo barocco lo confermano. Dappertutto, mostre, esposizioni, c'è una cosa splendida veramente. Città vivace, stimolante, ricca nell'offerta, è evidente, gli edonisti sono accontentati. Quanto ai santi non basta la presenza di così tante chiese per confermarlo perché le chiese per lo più non sono visitabili. Fatta eccezione per il Duomo e la Basilica di Santa Croce di cui con l'iniziativa Open Days il Comune cura l'apertura fino alle 23. Per lo più aprono per le messe e nel pomeriggio poco dopo le 18 sono già off limits per fedeli visitatori armati di videocamere. Nella domenica centrale della stagione alta visitabile per un caso Santa Chiara e la Festa della Santa e Santa Teresa per la buona volontà del priore che garantisce aperture mattutine e pomeridiane fino alle 19. Abbiamo visto che era quasi tutto chiuso, questa abbiamo trovato che era aperta che non ricordo neanche come si chiamava. La competenza della curia che giocoforza le limita le strette esigenze del culto. Non ci si può sobbarcare spese di manutenzione e vigilanza per esigenze turistiche senza il sostegno di altri enti. Dispiaciuti i vacanzieri che però sembrano comprendere. È un peccato perché guardi sono anni che veniamo in vacanza in Puglia ed era oggi l'occasione giusta perché volevamo visitare Lecce. Il turismo sarebbe importante averle sempre aperte, è chiaro. Ma chi paga? Va meglio con i servizi e i negozi. Nel cuore antico Saracinesche prevalentemente alzate e anche la domenica ci si allinea lentamente agli standards delle altre città d'arte.